Le restrizioni per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19 non hanno consentito feste di piazza né cortei con autostrombazzanti rimandati. Anche perché frastornati dall'esito di una battaglia durata quasi 15 anni, i componenti dell'Associazione Misiliscemi hanno deciso di fare, anche in questo caso, le cose per bene. Meglio avere le autorizzazioni necessarie e poi procedere con una manifestazione pubblica e appunto legittimata. Ma la gioia era tanta ieri sera che uno sparuto numero di componenti dell'Associazione si è riunito per stappare una bottiglia di spumante, bollicine, che hanno sosseggiato assieme a loro anche i due deputati regionali di Marsala, gli onorevoli Eleonorello Curto e Stefano Pellegrino, i due che hanno supportato e perorato la battaglia per il nuovo comune di Misiliscemi. Da ieri, quindi, la Sicilia annoverà il venticinquesimo comune per la provincia di Trapani e il 391esimo, complessivamente, della regione. Non subito, ovviamente. C'è tutta una trafila burocratica da affrontare e, nell'attesa che tutto venga definito, il nuovo comune sarà retto da un commissario straordinario che rimarrà in carica fino all'elezione del sindaco e del consiglio di Misiliscemi. La sede legale provvisoria, così ha stabilito la regione, sarà intanto, nelle more dell'approvazione dello statuto, nel comune di Trapani. Come noto, a Misiliscemi rientrano le ormai quasi ex frazioni trapanese di Fontana Salsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salina Grande e Pietre Tagliate. Il personale del comune di Trapani, residente nelle frazioni scorporate, passerà alle dipendenze del nuovo ente locale. A Misiliscemi ricade anche l'aeroporto di Birgi. Misiliscemi in totale avrà 8.669 abitanti, che però diventeranno all'incirca 20.000 durante la stagione estiva. Appare evidente dai numeri e sin dall'inizio dell'Iter, che ha portato a questo epilogo, che si tratta della vittoria di pochi nei confronti di tanti. La potremmo definire la vittoria di Davide contro Golia. In effetti lo Stato è una piccola associazione formata da persone comuni ed anche semplici, che con una fionda, cioè un sogno da realizzare, ha sconfitto il gigante, cioè la classe politica trapanese e la burocrazia siciliana armata di San Napianta. Ieri pomeriggio, presenti in aula all'Ars, erano circa due terzi degli eventi diritto. Il nuovo comune di Misiliscemi ha ricevuto complessivamente 21 sì e 13 no. Alcuni altri, pochi, si sono astenuti, in maniera che potremmo definire pilatesca. L'Auda ha discusso entrando nel merito dell'opportunità di dare vita al nuovo piccolo comune di nemmeno 9.000 abitanti. Specialmente alla luce dell'altro disegno di legge che va in controtendenza rispetto a quello votato ieri pomeriggio, c'è quello che punta alla soglia dei 10.000 abitanti per poter chiedere ufficialmente l'istituzione quale nuovo comune. Con questa soglia di sbaramento, Misiliscemi sarebbe stato fuori dai giochi. E infatti, anche per questo motivo, la macchina dei sostenitori del nuovo comune si è messa in moto come mai. I protagonisti sono stati certamente i componenti dell'associazione Misiliscemi, che sono riusciti a raggiungere l'obiettivo al quale hanno lavorato da quasi 15 anni. Voto segreto, quello che ieri ha sancito all'Ars la nascita di Misiliscemi. Un meccanismo che ha fatto storcere il naso al presidente dell'Assemblea Gianfranco Micicchè, il quale comunque ha autorizzato la votazione con voto segreto. Ma ha sottolineato che il decentramento è fallito e che quindi non ci trova nulla di scandaloso nelle richieste che arriveranno da diversi territori che, come Misiliscemi, vogliono diventare autonome. In mezzo ci sono gli astenuti nel dibattito che ha palesato gli schieramenti contrapposti. Gli astenuti, per esempio, i deputati del Movimento 5 Stelle. Favorevoli i deputati del gruppo parlamentare di Attiva Sicilia, che tra l'altro hanno overa sull'interno due esponenti del trapanese, cioè l'Alcamesi Valentina Palmeri e il mazzarese Sergio Tancredi. Un secco no a Misiliscemi arrivato dall'onorevole del Partito Democratico Antonello Cracolici. Infine è stata la volta dei due sostenitori a spada tratta del Sia Misiliscemi, i due deputati marzaresi Stefano Pellegrino ed Eleonora Locurto, appunto. Pellegrino, tra l'altro, presidente della prima commissione e relatore del disegno di legge. Ma la vera vincitrice politica di questa battaglia che ha portato alla nascita di un nuovo comune e senza dubbio la deputata Udc Eleonora Locurto ha battagliato, convincendo diversi suoi colleghi deputati a favorire la nascita del nuovo comune di Misiliscemi. I due marsalesi non ne hanno fatto mistero durante la campagna elettorale per le scorse amministrative a Marsala. La nascita di questo nuovo comune, con conseguente riduzione del numero di abitanti per Trapani, potrebbe aprire le maglie per una rivisitazione sul capologo di provincia e Marsala adesso sogna un po' di più rispetto a ieri. Trapani, invece, oggi si è svegliata più povera di cittadini e di risorse. Il malumore per le strade, ma soprattutto sulle pagine dei social network, è palese, però è tardivo. Al referendum di fine maggio 2018, gli stessi trapanesi che oggi si lamentano hanno preferito non votare, lasciando di fatto la vittoria in mano al fronte del sì e dai misilesi, che allora si recarono in massa a votare, consentendo il superamento del quorum nelle otto frazioni interessate. Tutto il resto è ormai acqua passata, storia scritta e, se vogliamo, tutta da decifrare. La storia nuova inizia da oggi con un nuovo comune e la necessità per Trapani di capire cosa diventare da grande, se rimanere preda dell'atavico menefreghismo che la contraddistingue da tempo o se iniziare a puntare con concretezza sull'ipotesi grande città, accorpando possibilmente in un unico grande comune il territorio di Trapani e di Erice.